primo combattimento di Tommy ok bravo Tommy dai Tommy dai ok bravo dai Tommy bravo dai bravo schiacci lo schiacci lo bisogna vincere decisamente bravo ok Tommy non dovete mai Tommy non dovete mai ha preso un po' più di tempo perché ne avevamo parlato questo era tosto un cd 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 un cd